I locali pesaresi, fra ascolto, musica e multe, si invoca chiarezza di regole. Emergenza acqua, scattano le ordinanze antispreco a Pesaro e Fano. Stop ai cinghiali, la regione firma il piano straordinario di contenimento. Gradimento dei presidenti di regione, Acquaroli ultimo secondo il sondaggio del Sole 24 ore. Via ai 65 appuntamenti dell'estate capitale fra borghi e quartieri. Un saluto a tutte le telespettatrici e telespettatori di Rossini TV con questa nuova edizione di Rossini News, l'edizione della Tg del 15 luglio che apriamo occupandoci della movida estiva di Pesaro e dei casi di multe e feste interrotte in alcuni locali che hanno fatto discutere negli ultimi giorni. Ora fra comune, gestori di locali e associazioni di categoria si cerca una mediazione all'insegna dei regole chiare e condivise. I permessi di musica non sono i permessi da ballo e viceversa. Ci sono regole, permessi e costi differenti. Su questa base nasce la discussione che vede interessate varie attività del pesarese da Baia Flaminia a Sottomonte dove la movida si risveglia con l'estate. Se da un lato il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ne fa una questione di numeri dall'altro Davide Ipaso, direttore confesarcenti Pesaro ne fa invece una questione di regole e rispetto. Una piccola precisazione, non è un attacco nei confronti del sindaco né tanto meno nei confronti degli assessori Mengucci e Frenquellucci ma è una precisazione in base a una frase che è stata detta che dà ampia interpretazione, dà l'opportunità ai furbi di credersi ancora ulteriormente più furbi. Ci sono attività che svolgono tra virgolette illecitamente un tipo di attività che è quella dell'attività del ballo. Per fare un'attività del ballo bisogna attenersi alla legge del testo unico del locale di pubblica sicurezza che dà delle regolamentazioni molto rigide e molto costose. Qualcuno cerca di evitare questi regolamenti evitando anche determinati pagamenti e facendo una concorrenza sleale nei confronti di altri colleghi che invece si attengono perissequamente a quelle che sono le regole del TULPS. Questo è il problema, non si può pensare di dire valuteremo in base alla gente che c'è che balla se è un'attività di ballo o meno. Se faccio un compleanno e due persone ballano con la musica che c'è sotto questo nessuno, non è un locale da ballo ma quando mettiamo un DJ set oppure pubblicizziamo sui social che c'è una festa all'interno di un locale quello, il locale deve essere attenzionato. L'unica cosa che noi chiediamo alle forze dell'ordine è di essere precise e puntuali nel momento in cui ci sono queste attività tra virgolette. Noi come associazione è anni che cerchiamo di far rispettare le regole. Vogliamo vivere nella totale anarchia? Facciamolo, nessuno si lamenta e ognuno si assume le responsabilità di ciò che fa nella propria attività. Ma così in Italia non è, forse ci vorrebbero meno lacci lacciuoli, questo è vero, meno restringimenti per certe cose, questo è vero, però la prima cosa è il rispetto di chi ti è vicino. Ci sono locali a Pesaro che hanno fatto per mesi un'attività così così così, evitiamoli. io cercherei, non voglio la città cimitero, il preso da RSA per gli anziani, però ci deve essere un giusto rispetto di chi ti è vicino. Regolamenti da rispettare, dice il Paso, non solo per la giustizia nei confronti altrui ma anche di sicurezza. Noi abbiamo organizzato per la Fimba una festa in Bara Flamina, a Campo di Marte, tra il piano sicurezza, tra gli addetti alla sicurezza o altro i costi sono esorbitanti, è vero, ma lo facciamo, abbiamo rispettato le regole, bisogna farlo e non sopporto più la gente che dice vabbè proviamo, vediamo come va, perché se va male quella volta lì ciò che non è rispeso in un'assicurazione o in un piano sicurezza ti si ritorce pesantemente contro e se succede qualcosa di brutto le conseguenze sono dannosissime per un'attività e per la persona e per l'imprenditore. Continua l'ondata di caldo persistente e resta alta l'allerta siccità, allerta la quale i comuni di Pesaro e Fano reagiscono emanando ordinanze contro lo spreco d'acqua. Vediamo in cosa consistono in questo servizio. Dopo cinque giorni di ondate di calore persistente e di fronte ad uno stato di siccità che sta incidendo sulla portata delle acque superficiali dei bacini della provincia sono scattate ordinanze comunali anti spreco d'acqua a Pesaro e Fano emesse dai sindaci Biancani e Serfilippi. Ordinanze che salvo contro ordine resteranno in vigore fino al 30 settembre. Quasi due mesi in cui viene vietato il prelievo e il consumo d'acqua del pubblico acquedotto per azioni quali lavaggio di cortili o piazzali, lavaggio privato di veicoli, riempimento di fontane ornamentali o piscine private salvo quelle legate ad attività economiche, turistiche o sportive nonché uso diverso da quello alimentare, domestico per l'igiene personale e per l'abbeveraggio di animali. A Pesaro per quel che riguarda l'irrigazione e annaffiatura di orti e giardini questa sarà consentita soltanto il lunedì, il mercoledì e il venerdì fra le 22 e le 7 di mattina. Chi trasgredisce rischia una multa da 25 a 500 euro. Un'ordinanza per il consumo responsabile d'acqua che contemplerà anche le quattro docce che saranno installate in altrettante spiagge libere con sistema frangigetto che consentirà il risparmio del 50 per cento d'acqua erogata. Oggi lo stesso Biancani ha preso parte all'installazione della prima doccia nell'appena inaugurata spiaggia di Baia Flaminia dedicata ai cani e ai loro padroni intitolata a Baia Flaminia. Riattivate anche le docce presenti nei pressi del locale chiosco della stessa Baia Flaminia mentre altre due docce saranno collocate in altrettanti tratti di spiaggia libera di sottomonte. Quella di oggi è stata una giornata molto importante per gli agricoltori marchigiani. La regione Marche ha infatti approvato il piano di contenimento straordinario della fauna selvatica in particolare dei cinghiali richiesto a gran voce da parte della categoria. Quasi 2000 agricoltori marchigiani sono arrivati questa mattina alle porte di Palazzo Raffaello sede della regione nel corteo organizzato da Coldiretti che chiedeva mosse concrete per il contenimento di una fauna selvatica che a detta degli stessi agricoltori continua ad essere una minaccia costante alle agricolture e all'economia ad essa connesse. Richieste accontentate perché la regione Marche attraverso il governatore Acquaroli e l'assessore Antonini ha annunciato di aver apposto la firma sul piano straordinario di monitoraggio e contenimento della fauna selvatica, in particolare per i cinghiali che si stimano presenti in circa 40.000 esemplari in tutto il territorio regionale. Un piano in cui l'abbattimento sarà applicabile anche nelle cosiddette aree protette, una specificità richiesta a gran voce dagli agricoltori. Con questa delibera si dà il via ad un piano straordinario che consentirà appunto di poter dare una risposta importante al mondo dell'agricoltura. Significa anche dare dignità a questo settore che appunto ha tante difficoltà ma deve trovare almeno sulla lotta alla fauna selvatica una vicinanza importante da parte delle istituzioni. Era un impegno che noi avevamo preso già da qualche tempo e sono felice che oggi siamo riusciti a portarlo a termine. Per Acquaroli non è solo un intervento che risponde all'esigenza di una categoria economica ma anche a concreti rischi per quel che riguarda la sicurezza stradale. Da punto di vista pratico si potrà mettere in campo appunto un piano straordinario che consentirà all'abbattimento della fauna selvatica in numero importante cercando di contenere l'impatto negativo della fauna selvatica sull'agricoltura. Come dicevo poc'anzi la fauna selvatica ha un impatto devastante su tantissime culture ma soprattutto l'impresa agricola non ha strumenti adeguati per potersi difendere. Questo piano è ritenuto da tutti noi uno strumento che può invece mettere in condizione il settore dell'agricoltura di potersi difendere senza rincorrere di continuo. Tra l'altro con spese a carico dell'impresa in un momento dove oggettivamente tante difficoltà ci sono. E proprio Acquaroli che avete appena ascoltato si è classificato all'ultimo posto nel Governance Poll 2024 il sondaggio annuale del Sole 24 Ore che stila una graduatoria del gradimento dei presidenti di regione e dei sindaci italiani. Acquaroli si è classificato tredicesimo in una graduatoria che non calcolava i presidenti eletti nel 2024. È il caso di Toti in Liguria sottoposto ad inchiesta della magistratura. Il gradimento di Acquaroli si attesta al 43% ovvero 6 punti meno rispetto al periodo immediatamente seguente alla sua elezione. Acquaroli ha detto di rispettare il sondaggio ma di riferire come i risultati elettorali delle ultime amministrative in regione suggeriscano una realtà molto diversa. E restiamo sempre in tema di politica e di politici visto che i risultati delle amministrative di giugno che hanno invece confermato Pesaro come Roccaforte regionale del centro-sinistra hanno dato motivo alla città di essere scelta come sede della prossima festa del Partito Democratico regionale. Ad annunciarlo è proprio la segretaria regionale del PD Chantel Bonprezzi per una festa che si terrà a Baia Flaminia dal 28 agosto al primo settembre. Cambiamo argomento, parliamo di sanità e ci spostiamo a Urbino dove il reparto di cardiologia dell'ospedale diretto dal dottor Paolo Busacca ha realizzato il primo intervento nelle Marche per l'impianto di un nuovo dispositivo di piccole dimensioni che rappresenta l'ultima evoluzione tecnologica di un sistema di modulazione della contrattività cardiaca per pazienti affetti da scompenso cardiaco. La particolarità della procedura svolta è che il dispositivo impiantato di circa 6 centimetri è ad oggi il più piccolo dispositivo disponibile per la modulazione della contrattività cardiaca. si tratta di una tecnologia all'avanguardia di cui possono beneficiare alcuni pazienti affetti da scompenso cardiaco terminale senza ulteriori possibilità di intervento. E parliamo ora della città di Pesaro e di quella di Ghiabice Mare che sono unite sempre più da strategie culturali e turistiche a cominciare da quella che riguarda la navetta gratuita che da inizio estate sta collegando i due comuni attraverso il San Bartolo. Pesaro e Ghiabice unite dal Parco San Bartolo per un turismo reciproco. Questo lo scopo delle navette gratuite e dello scambio di vetrine tra i due comuni affinché i turisti possono visitarli entrambi all'insegna del verde, del mare e ovviamente della cultura. Siamo qui per presentare tutte quelle che sono le offerte che Pesaro capitale italiana della cultura 2024 mette a disposizione in particolar modo l'apertura di tutti i musei di tutti gli spazi culturali che abbiamo nella città di Pesaro dal teatro Rossini al conservatorio al museo di Rossini la casa di Rossini la sinagoga, la domos o meglio tutti quelli che sono quello che è il grande patrimonio culturale che abbiamo in città. Abbiamo pensato che Ghiabice essendo una località turistica tra le principali non a livello regionale ma a livello nazionale era importante far conoscere tutte quelle che sono le opportunità anche ai turisti che vengono a Ghiabice anche perché questa collaborazione è rafforzata dal fatto che in questi anni ma soprattutto quest'anno abbiamo attivato una navetta che praticamente va da Pesaro a Ghiabice e viceversa lungo il parco del San Bartolo, navetta gratuita che consente ai turisti o di Pesaro o di Ghiabice di poter andare a visitare anche la località appunto confinante. Rendere i collegamenti così facilitati, così fatti in maniera ecosostenibile con le navette comunque elettriche che collegano a Ghiabice Mare passando per Ghiabice Monte, Baia e Vallugola fino ad arrivare poi a Pesaro città sono una grandissima opportunità per tutti i nostri turisti, i nostri visitatori ma anche per i cittadini di poter godere ancora di più di questo meraviglioso territorio che siamo qui insomma a cercare di vendere tutti i giorni a livello turistico. Dalla natura della cultura alla natura della collaborazione che porta i due comuni ad unire e scambiarsi il bacino di visitatori per una maggiore offerta turistica che permetta loro di scoprire appieno il territorio. Una promozione reciproca, siamo anche a Ghiabice perché Ghiabice è uno dei principali attrattori turistici soprattutto estivi della regione Marche, dialoga con Pesaro su tante cose a partire dalla capitale della cultura, hanno fatto una settimana da capitale della cultura a cavallo di Pasqua veramente notevole e ora siamo qui a ufficializzare anche una promozione reciproca che passa per i punti di informazione, per i depiant, per le informazioni e per i tour che vengono messi a disposizione dei turisti che sono a Ghiabice, quindi non solo l'opportunità di andare a Pesaro a sapere anche cosa troveranno quando arriveranno a Pesaro, altrettanto negli IAT e gli Infopoint di Pesaro è l'attrattiva di poter trascorrere una giornata, una serata e del tempo a Ghiabice. Un progetto che abbiamo fortemente voluto e condiviso col Comune di Pesaro, maggiore sicurezza perché permette di raggiungere il parco e i nostri territori tra Ghiabice e Pesaro con sicuramente un minore impatto ambientale e permette ai turisti che scegliono la nostra destinazione di raggiungerlo oltre che in sicurezza fermandosi e potendo ammirare tutto il panorama che il parco permette di visitare. Ed ora ci occupiamo di musica e di quello che è una sorta di vivaio del Rossini Opera Festival, vale a dire l'Accademia Rossiniana Alberto Zedda giunta alla sua 36esima edizione. 65 appuntamenti culturali ed intrattenimento in sei settimane d'estate trasversali ad ogni fascia d'età. Riparte il programma della rassegna fra borghi e quartieri in cui teatro dialettale, letture, concerti o appuntamenti di giocoleria vanno ad animare ogni rione pesarese con un programma concentrato sulle giornate feriali. Una ricchezza di iniziative ragionate con i quartieri, per i quartieri e per i borghi con la finalità soprattutto al di là del weekend che a volte è sempre troppo carico di iniziative per cui magari normalmente ci si riversa in centro al mare ma offrire alle famiglie non solo un programma dal lunedì al giovedì con qualche naturalmente eccezione anche sul fine settimana ma probabilmente durante la settimana per poter vivere il proprio quartiere o scoprire altri quartieri della città perché diciamo non si conoscono più i quartieri della città come una volta c'è meno abitudine a spostarsi anche tra i più giovani e non solo quindi è anche un modo per scoprire attraverso un contenuto anche la bellezza di un luogo o la specificità di un quartiere rispetto all'altro. Abbiamo i burattini di Renzo Guerra, abbiamo spettacoli di giocoleria, bolle di sapone e magia per i più piccoli ma naturalmente anche per le famiglie, letture per bambini ma anche letture per grandi, wallscape, camminate esperienziali quindi queste passeggiate insieme ad una guida che spiegherà e racconterà quello che si sta vedendo durante il percorso. Abbiamo altre iniziative tipo presentazioni di libri o cose dialettali che sono sempre molto seguite e molto esilaranti come Franca Mercantini, Simone Garber Morotti e qualche festa di quartiere e anche qualche fuori programma. Il 24 per esempio agosto avremo a Novilara l'osservazione delle stelle dal castello. L'intrattenimento varia dagli adulti ai più piccoli, tanti sono infatti gli appuntamenti pensati per i bambini dai tre anni ma anche più piccoli in su, pensati in autonomia o anche insieme alle loro famiglie. E' sempre un momento prezioso poter passare del tempo insieme alle proprie famiglie, un tempo buono attraverso attività che possano goderne anche durante l'estate. Ed ora parliamo di un altro appuntamento culturale d'intrattenimento che torna nell'estate pesarese ovvero quello degli eventi organizzati fra borghi e quartieri. Dopo due settimane di lezioni di interpretazione vocale, musicologia, arte scenica e masterclass la 36esima edizione dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda si chiude questa sera lunedì 15 luglio alle 20.30 al Teatro Rossini con il consueto concerto finale nel corso del quale gli allievi accompagnati al pianoforte da Ruben Sanchez Vieco interpreteranno pagine del repertorio operistico rossiniano. Questo il programma che innesca un festival giovane 2024 presentato nella cornice di Villa Meuccia Severi. Questa è stata una felicissima intuizione da parte di Alberto Zedda creare questa Accademia cioè pensare al futuro le nuove generazioni che devono soprattutto amare Rossini e poi cantare bene. Qui quest'anno abbiamo praticamente l'ONU perché sono da tutte le nazioni, abbiamo solo quattro italiani, ci sono quattro russi, due spagnoli, ci sono giapponesi, cinesi, giorgiani, olandesi, un po' tutto. Dall'Accademia si apre un festival giovane che proseguirà con la rassegna Salon Rossini e la partecipazione ai concerti al museo. Sono sei piazze diverse della regione Marche e cinque concerti al museo, ma anche la seconda settimana già ci siamo immersi nel Viaggio Rems che è l'opera che loro faranno durante il festival. Festival giovane che da tre anni è sostenuto dalla Fondazione Meuccia Severi. Le motivazioni sono veramente da un certo punto di vista se vogliamo quasi semplici, nel senso che si coniugano i giovani come sono appunto gli allievi tutti gli anni dell'Accademia Rossignana, l'arte, in questo caso il bel canto ma che si sposa benissimo con quello che è la Fondazione Meuccia Severi incentrata su una collezione d'arte fantastica di pitture e sculture, il legame con il territorio che per noi è importantissimo, però anche l'internazionalità appunto dei ragazzi che vengono da tutto il mondo il cui lavoro è premiato tutti gli anni con un seguito e un entusiasmo incredibili. E ora concludiamo con alcune notizie di sport, cominciamo con l'automobilismo e con la prestigiosa vittoria del 21enne pilota peserese Diego Di Fabio nella seconda prova del campionato italiano Gran Turismo Endurance, disputata ieri sul circuito di Mugello. Di Fabio ha infatti dominato la categoria GT Cup con la Lamborghini Hurricane del team di L Racing. Dopo la pole position di sabato il peserese ha condiviso le tre ore di gara con il portoghese Rodrigo Testa e l'egiziano Ibrahim Bedway, mantenendo sempre la testa nei suoi turni di guida. Si è trattato di un ritorno vincente per Di Fabio nel campionato Endurance dove aveva già vinto il titolo italiano di categoria nel 2022. Per Di Fabio che dal suo debutto a 16 anni vantaggia tre titoli italiani è una stagione impegnativa divisa su più fronti, compreso il campionato Gran Turismo Sprint con la Ferrari 488 GT Evo Cup e il prestigioso campionato Lotus Cup Europa nei quali ha già ottenuto vittorie, piazzamenti e pole position. E concludiamo con la Vis Pesaro che scalda i motori, visto che parlavamo di motori, rimaniamo in questo gioco di parole per la stagione 2024-2025. Oggi la squadra si è ritrovata al Benelli per il raduno e i primi test in vista del ritiro di cingoli dal 19 luglio e ha pure conosciuto il suo calendario. Il campionato comincerà dalla trasferta più lunga, quella di Sassari, con la Torres fissata al 25 agosto, data della prima di campionato. Il debutto al Benelli sarà invece il 1 settembre con Vis Arezzo. L'unico derby marchigiano con Lascoli arriverà alla quindicesima giornata, seguito una settimana dopo dal derby con il Rimini. Avversario dell'ultima di campionato sarà la novità Milan Futuro. Vediamo adesso, prima di lasciarvi al meteo e di salutarci, quali sono gli appuntamenti che ci attendono ancora oggi su Rossini TV. A partire dalla Natura della Cultura Magazine, che a seguire dal Tg oggi tratterà la settimana da capitale della cultura del comune di Monbaroccio. Vedete le repliche qui in grafica, che poi ci saranno a seguire, e anche i nuovi appuntamenti con il mercoledì e il venerdì all'insegna della cultura. A seguire poi ci sarà il nostro solito appuntamento del lunedì, con Check Up Obiettivo Salute, Fisioradi Medical Center, ospite di oggi Paolo Perrella, medico chirurgo specializzato in ginecologia. Il tema trattato sarà la menopausa. E l'appuntamento di domani mattina, ma come tutte le mattine ormai lo saprete già, che ci accompagna da lunedì al sabato alle ore 7.20 in diretta con Buongiorno Rossini per la rassegna del mattino. E per il Tg di oggi è tutto, vi ringraziamo di essere stati con noi, ma vi invitiamo anche a non cambiare canale, perché adesso ci sarà il meteo e poi tutti gli appuntamenti che vi ho appena elencato.